Radio Radicale, siamo con il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Giustizia, Eugenio Saitta, per parlare della Commissione Palamara, io utilizzo questo termine perché è quello più semplice da capire, dopo la nomina dei relatori. Allora, molti hanno sostenuto la tesi che questa nomina dei due relatori, del PD e di Leo sia stata un'opzione per insabbiare la stessa Commissione. Allora, cosa c'è di vero, cosa può dire rispetto alle polemiche che ci sono state e sul fatto che i sostenitori, i proponenti della Commissione non hanno avuto nessun relatore? Io innanzitutto ci tengo a dire che si tratta di pubblicità ingannevole definire questa Commissione Palamara, per il semplice motivo che, e lo dice anche il titolo della PDL presentata da Forza Italia, dove il primo proponente, la prima firmataria è la ministra Gelmini, che parla proprio di... Quando ancora non era ministra. Il titolo esplicitamente dice uso politico della magistratura. Quindi non stiamo parlando del caso Palamara, tra l'altro non è neanche citato Palamara nella proposta di legge. Noi ideologicamente non siamo contro le commissioni d'inchiesta, ci mancherebbe. Abbiamo fatto commissioni d'inchiesta anche per quanto riguarda esempio il caso Reggeni, per quanto riguarda il caso David Rossi, però là avevamo un oggetto ben definito, è una questione su cui bisognava fare chiarezza politica, da questo punto di vista, senza sovrapporci a quella che è poi l'attività giurisdizionale, l'attività giudiziaria. Qui abbiamo un oggetto indefinito, un uso politico della magistratura che sembra quasi come se il Parlamento dovesse fare un processo alla magistratura a un altro potere dello Stato che tra l'altro ha anche un organo di autogoverno interno che è il CSM, quindi da questo punto di vista ci sembrano un po' problematiche le questioni. Detto questo, nessuno si è espresso contro una commissione d'inchiesta su un fatto determinato. La scelta che hanno fatto i Presidenti mi sembra una scelta più che legittima che rientra nelle loro competenze, sicuramente avranno fatto una valutazione di quello che è la situazione all'interno della Commissione Prima e Seconda e hanno optato per la scelta dei due relatori che tra l'altro sono Conte di Leu per la Commissione Giustizia e Ceccanti per la Commissione Prima. Affari Costituzionali. Sicuramente è una loro legittima decisione dei Presidenti, non si sono comportati come si è comportato Ostellari al Senato, quindi non c'è stato da questo punto di vista un'inzabbiatura o un rallentamento dei lavori. Certamente una quadra va trovata su queste... L'inzabbiatura su cosa diceva però Ostellari? No, lei diceva sembra quasi un'inzabbiatura la nomina di questi due relatori, io non la vedo in questo senso. No, su Ostellari facevo riferimento ad esempio al DDL Zanno... Poi ha ripreso, è stato calendarizzato in Commissione. Abbiamo visto quanto faticoso è stato riprendere questa PDL, tra l'altro noi abbiamo anche... Anche qui non era stato calendarizzato in un primo tempo, poi alla fine è andato... Sa bene che quando si tratta di due commissioni congiunte diventa abbastanza problematico, soprattutto in una situazione come quella del Covid e che vede la prima coinvolta anche in molte decisioni che deve fare perché tanti provvedimenti sono di carattere costituzionale quindi è abbastanza problematico anche per questo. Però una volta che abbiamo iniziato si è delineato un percorso e il percorso sta continuando da questo punto di vista. Lei avrà visto quello che sta succedendo al CSM anche dopo che sono uscite sui giornali le rivelazioni di questo avvocato a Amara. Lei che idea si è fatto? Pensa che queste vicende possano diventare carne al fuoco per la Commissione? Le vicende in sé, almeno quello che leggo dai giornali, mi sembra abbastanza grave come vicenda, non è l'unica che sta riguardando la magistratura. Però voglio dire, noi abbiamo oggi la possibilità di poter intervenire e limitare tutti questi problemi che so che è appunto la sede opportuna, a mio avviso, la riforma del CSM e dell'ordinamento giudiziario. Quella è la sede più opportuna perché lì andiamo a toccare le porte girevoli, lì andiamo a toccare il sistema elettorale ed effettivamente una soluzione concreta in questo senso la possiamo dare in questa direzione. Ora, il provvedimento è ingardinato da noi, stiamo aspettando il termine emendamenti che sarà il 17 maggio e la scadenza per poter lavorare seriamente in questa direzione. Tra l'altro vedo anche tutte le forze politiche, l'orientamento che hanno è quello che effettivamente dobbiamo intervenire per limitare quella che può essere la degenerazione del correntismo all'interno della magistratura e quindi anche quelle vicende distorsive che abbiamo visto nelle cronache odierne, per me è quella la sede ideale. L'ultima cosa, il Presidente della Repubblica può essere perplesso di fronte a quello che sta accadendo anche nel CSM secondo me? Il Presidente del CSM. Sì, il Presidente del CSM. Sono sicuramente, il Presidente è molto attento a queste vicende, so che ad esempio apprendo dai giornali che c'è stata anche un'interlocuzione con la Ministra Cartabia oggi, almeno leggevo dalle agenzie, quindi sicuramente sarà, insomma, starà seguendo la vicenda e se ritiene di intervenire non verrà a meno, questo sicuramente. Secondo lei lui vedrebbe positivamente questa commissione, se l'è posto l'interrogativo? Questo interrogativo è un interrogativo interessante ed è anche un interrogativo mio, mi piacerebbe sapere cosa ne pensa il Quirinale di una commissione di inchiesta di questo genere. Bene, io la ringrazio molto, grazie a Eugenio Saita, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Giustizia Montecitore.